ciao a tutti benvenuti in un video sono sparita per un pochino ma purtroppo gli impegni sono sempre tanti però oggi sono ritornata perché volevo farvi vedere un ordine che ho fatto un pochino di tempo fa sul sito di video shop questo è il pacchettino lo apprezziamo a voi perché appunto l'ho acquistato ma non l'avevo ancora aperto in questo giro mi sono armata di tagliarino provvediamo rimuovere lo scratch e scopriamo il contenuto allora ok ho aperto subito sono curiosa perché ho preso dei prodotti che mi hanno incuriosito sia per via della promo che c'era sia per il fatto che sono tutti che io utilizzo usate però ok aperto allora questo è il contenuto proprio si presenta così abbiamo subito cosa sta all'interno allora questo va bello migliettino volantino che riporta alcuni dei loro prodotti in questo caso arbuster impacco rinforzante per i capelli e idrolato di rosmarino io onestamente la roba linea capelli non l'ho mai provata andiamo a togliere la carta ma che carini adesso dimostra subito allora io ho scelto di acquistare un kit prodotti labbra in questo caso proprio loro di unigua quindi qui abbiamo uno scrub labbra levigante di 15 ml che è così spero che si veda poi questo kit comprendeva anche la maschera labbra rimpolpante sempre 15 ml qua qui dopo ve le faccio vedere anche perché ho intenzione di utilizzarle subito insomma che c'era un altro prodotto allora in regalo la pochette meteor a one magic e unigua materiale questa è la capienza carina anche perché io ho sentito un sicuro di poter metter via quindi molto molto utile però a me sembrava che c'era anche il lip balm devo controllare poi l'ordine perché non mi ricordo video di poter metterla che c'era anche il lip balm e infatti avevo ragione vaniglia e carité quindi abbiamo un kit praticamente con questi tre prodotti io questi particolarmente lì di loro allora l'interno di questo pacchettino abbiamo dei campioncini abbiamo allora la maschera per capelli di unigua e poi mi hanno inviato balsamo capelli sempre di unigua intanto grazie adesso vi faccio vedere la texture di questi due prodotti perché sono troppo curiosa allora partiamo con lo scrub labbra visto che non ne ho ah ok dall'apertura a sei mesi credo anche la maschera esatto c'è anche la maschera vediamo subito come questo scrub che già aveva colore e piazza mamma mia wow che profumo sembra cocco non capire mandorla mi sembra mandorla che buono è così rosa con questi granellini fini non so se si vedono mamma mia io sono già innamorata quindi questo sicuramente lo metterò in uso proprio stasera vediamo invece la maschera anche questa la utilizzerò la sera che è dello stesso colore dello scrub questa non capisco che profumazione ha anche questa pink molto molto carina per cui poi io vi darò aggiornamento perché mi segue su sui social riguardo a questi prodotti adesso io il balsamo labbra non lo apro perché ne ho già due in uso ma il balsamo labbra invece dura 12 metri dell'apertura quindi io direi che il mio ordine è terminato ringrazio intanto il shop perché come sempre un ottimo shop mi trovo veramente molto bene e sono molto curiosa di provare proprio questi loro prodotti quindi vi darò aggiornamenti intanto io vi do un bacione e alla prossima ciao ciao